I giorni di Natale e Santo Stefano saranno caratterizzati da un forte vento che proviene dal nord-est, sferzerà la pianura padana e le zone alpine e prealpine. Ad annunciarlo il centro funzionale è decentrato della protezione civile che ha inoltrato il bollettino delle 14 di oggi alla regione Veneto. A seconda dell'effettiva intensità delle raffiche che si attendono da domattina, si rimodulerà lo stato di attenzione in fase di preallarme o allarme. Entro domenica la situazione dovrebbe ritornare nei ranghi della normalità, aggiornamenti previsti alle 10 del 25 dicembre e alle 14 del 26 dicembre prossimi.